Per ben due volte, secondo l'accusa, avrebbe molestato sessualmente la nipotina di 8 anni, toccandola e mostrandole le parti intime. Un operaio di 28 anni è indagato per violenza sessuale aggravata e il prossimo 1 marzo dovrà comparire davanti al giudice per l'udienza preliminare che deciderà se rinviarlo a giudizio o meno. I fatti risalirebbero all'estate del 2016 quando la famiglia della bambina aveva chiesto allo zio di controllare la nipote e farla giocare con il cuginetto una volta soli, però lo zio l'avrebbe molestata. La piccola, dopo la seconda presunta molestia, ha raccontato tutto ai genitori che hanno presentato denunce ai carabinieri di San Martino di Lupari. La bambina, secondo diverse perizie, è risultata credibile mentre lo zio si è valso dalla facoltà di non rispondere.